La disgustosa ferocia della vendetta, quale titolo potrei mettere più azzeccato perché è questa che mi colpisce, non la notizia in sé in quanto la notizia, sono notizie di questo genere, accadono tutti i giorni, semplicemente non lo sappiamo, non viene alla luce. Sto ovviamente parlando della vendetta, della spedizione punitiva dei cellerini di Santa Maria Capoavetere, delle guardie penitenziarie che hanno attaccato, brutalizzato, umiliato, perché la dignità dell'uomo fa più male quando viene umiliata ancora di più delle botte, i detenuti perché avevano fatto una rivolta, una rivolta dovuta alle condizioni disumane sotto pandemia, non una rivolta a caso, perché un detenuto che dice la sua ha sempre torto, ovviamente, un detenuto, e certo, non è come quando magari scendi in piazza per un motivo giusto, sarebbe follia. Bene, quello che è accaduto per me, vedere questi video mi ha fatto male, mi ha toccato umanamente, soprattutto perché ragazzi, la figura della guardia penitenziaria, ce ne sono tante di figure così, tante persone che lo fanno col cuore, che ti fanno rivalutare la figura dei carabinieri, c'è tanta gente che ha odiato i carabinieri fino all'altro ieri, va in galera, inizia a capire quel lavoro grazie a persone che mostrano umanità davanti alla sofferenza, davanti al dolore, e poi ci sono questi emergumeni che invece distruggono tutto quello che di buono fa un uomo per salvare la propria categoria, e trasformano quello che è un lavoro onesto in merda totale, perché ragazzi, io sarò sincero, non sono più la persona fuckpolista, roba qua di quando sei ragazzino, da quando non ho più nulla da nascondere, mi è completamente indifferente, non provo né odio né rispetto, se mi ferma un carabiniere mi faccio pure una risata, perché non c'è niente da nascondere, sto in regola a livello fiscale, sto in regola, non c'ho droghe né a casa né in tasca, è chiaro, se c'hai il fumo in tasca, mezzo chilo a casa, non è il mio caso, non c'ho mezzo chilo a casa, c'evo mezzo chilo a casa, insomma, va a piccole dosi, c'hai i conti che se ti vedono anche 50 euro ti risequestrano, giustamente ti caghi sotto, ma la verità è che se non c'hai niente da nascondere, il soppruso è difficile che ti accade, anche se accade anche quello, bene, invece quando sei un pregiudicato, al di là di quello che nascondi, basta quello che hai nascosto, quando sei un pregiudicato, tu hai sempre torto, a priori funziona così, questa è l'Italia, ma questa è anche l'America e anche insomma il mondo in generale, e quindi di conseguenza il detenuto quando dice guarda ci picchiano, e chi ti crede fanno bene, questo è la gente che si dimentica che una persona che sta vivendo la detenzione, ha una dignità, ha un cuore, ha un'anima, e deve essere rispettata, e invece guardate cosa accade, un putiferium, avete visto le facce di queste persone, mentre picchiano, mentre usano il manganello, mentre umiliano, come godono, ora c'è una parte di me che mi verrebbe da dire, per questa gente fine pena mai, ma poi mi metto nello stesso livello di queste persone, mi metto nello stesso livello del populismo becero, che condanno tanto, ci sarà un giudice, ci sarà una condanna, andranno processati, ma con la dignità e la pietà, anche la frustrazione di chi magari ha vissuto una situazione particolare dentro di sé, e l'ha sfogata così, quindi mi fa schifo questa rabbia, ma provo a capirla, provo a concepirla questa violenza, ma va punita, va punita, perché non si può, bisogna avere dignità, e i ragazzi detenuti hanno dei diritti, purtroppo questa cosa qua non viene mai rispettata, 1. le condizioni delle celle, 2. le condizioni dei carceri, ma ridicole, ridicole, cioè ogni carcere in Italia è praticamente anticostituzionale, 3. la possibilità di rieducare una persona, nel momento in cui io entro in carcere e non c'è un percorso di rieducazione, non c'è nulla che lo Stato faccia per me, per aiutarmi e darmi la possibilità, allora ecco cosa accade, che alla fine si sfocia in violenza, perché questi atti qui, questa follia qua, viene generata tutta quanta da una mancanza di lavoro fatto bene, che sta ai piani alti, perché tra l'altro c'è da dire che sti cazzo di guardie, sono poche e poco pagate, non vengono gestiti bene i soldi, è come gli ospedali, è uguale, pochi medici, pochi infermieri, poco pagati, che fanno dei turni pazzeschi e poi ti sbagliano a dare le medicine, lo dico perché me l'ha detto una mia amica che fa quel lavoro, mi ha detto io sto iniziando anche a sbagliare ogni tanto perché non ce la faccio più, lavoro 14 ore al giorno, vengo pagata a un cazzo e fa l'infermiera, ragazzi, dobbiamo fare, sto prendendo il microfono nuovo, purtroppo vivo in una zona in cui passano le macchine e quindi io capisco che il sottofondo è poco gradevole, sapete quanto mi sto incazzando, ecco mo andrei lì con un manganello, non lo faccio, non posso farlo, esiste una costituzione e così deve essere per tutti quanti, ma dentro una cella, dentro una galera, ognuno può fare quello che cazzo gli pare perché non ti vede nessuno, ma fortunatamente questa volta vi hanno pizzicati, vi hanno beccati e giustizia sarà fatta, giustizia sarà fatta, lavoro finito, vita finita, perché poi do cazzo vai, dove lavori? Vedete cosa vi è costato una spedizione punitiva, se anche, io adesso ho il mio ultimo appello a tutte le guardie e a tutta la gente che fa il mestiere del carabiniere, che è un mestiere per me senza infamia e senza rote, né ti stimo perché sei un carabiniere, né ti disprezzo perché sei un carabiniere, è un lavoro come tanti, per me hai un rispetto basico che è quello umano, se devi fare questo lavoro devi differenziarti dal mondo che combatti, perché un carabiniere che fa una spedizione punitiva, avesse anche davanti un mafioso, avessero anche un mafioso, non va bene, non va bene, devi differenziarti, devi dare il buon esempio, perché se fai la spedizione punitiva sei tu il criminale e non c'è nessuna giacca, non c'è nessuna divisa che cambi questo, vergognati.